4 aprile 1944 Alla risiera di San Sabba, nell'unico campo di sterminio nazista in Italia, entra in funzione il forno crematorio. La nuova struttura viene inaugurata con la cremazione di 70 cadaveri di ostaggi fucilati il giorno prima nel poligono di Chiro di Opicina. Nella notte fra il 29 e il 30 aprile 1945, il forno crematorio e la ciminiera verranno fatti saltare con la dinamite dai nazisti in fuga per eliminare le prove dei loro crimini, secondo una prassi eseguita in altri campi al momento del loro abbandono.